Chi di noi non ha provato o non prova un momento di stress in questo periodo storico, insomma così difficile per svariate ragioni. Per questo nasce ad Arezzo lo sportello ANSES che si trova, come vedete alle mie spalle, in Corso Italia 162. Al suo interno ci sono cinque psicologhe e psicoterapeute che una volta alla settimana mettono a disposizione di tutti i cittadini che vorranno accedere a questo sportello la loro professionalità. Le andiamo a conoscere. È nato anche ad Arezzo lo sportello ANSES, intanto che cosa significa questa sigla? Associazione Nazionale Stress e Salute. È un'associazione che è nata a Pistoia circa un anno e mezzo fa con lo scopo di promuovere il benessere e la salute psicologica. Ha sportelli in più zone d'Italia, quindi è a livello nazionale. È uno sportello, intanto diciamolo subito, gratuito, che funziona una volta alla settimana? Sì, è aperto il mercoledì dalle 17 alle 19 e è necessario prendere un appuntamento al numero 331 97 56 394 e si possono prendere informazioni anche sul sito www.anses.it. È molto importante questa gratuità perché comunque si dà forse un approccio più facile a coloro che possono vivere un momento di stress da qualsiasi punto di vista, un lutto, la perdita del lavoro, piuttosto che al contrario un evento magari estremamente positivo come ricordava la sua collega, la promozione sul lavoro che non riesco a sostenere da un punto di vista, come dire, l'ansia da prestazione, no? Come si suol dire? Sì, tutti si possono rivolgere a questo sportello, quindi singoli cittadini, gruppi, associazioni, tutti coloro che sentono di vivere un momento di stress psicofisico perché appunto lo stress può essere sia mentale ma anche poi risolversi sulla parte fisica di noi stessi. In questi due incontri che facciamo, quindi facciamo un discorso di accoglienza di quello che è la difficoltà, la problematica portata dalla persona e poi in un secondo incontro quello che cerchiamo di fare è riorientare la persona su quello che offre il territorio sia a livello psicologico e sia anche a livello di, non so, il patronato piuttosto che l'ordine degli avvocati che forniscono comunque delle prestazioni gratuiti, ad esempio, quindi una cosa un po' a 360 gradi. Primo appuntamento quando è? Il primo appuntamento è il 4 aprile e questi incontri si terranno presso la libreria Mondadori dalle 18, dalle ore 18 alle ore 20.